Effective nasce nel 2019 nell'ambito dell'unità di ricerca Qua Ontotec del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze. La start-up si occupa di produrre e sviluppare software di sentiment analysis avanzata. La mission dello spin-off consiste cioè nell'offrire al mercato software di analisi semantica in grado di estrarre i contenuti testuali pubblicati dagli utenti sui social media e in tutto il web e di estrarre da essi informazioni sul tipo di legame affettivo che l'autore intrattiene con ciò di cui parla, può essere un prodotto, un servizio, un marchio. Queste informazioni sono utili per aziende ed enti pubblici al fine di ottimizzare la segmentazione e la conoscenza della propria audience. Tutti i software che Effective produce hanno alla propria base una piattaforma di analisi innovativa capace di classificare i testi non soltanto come positivi o negativi ma anche di sondare le emozioni e i comportamenti sottostanti. Questo consente ad esempio di riconoscere non soltanto quali sono le motivazioni che spingono un consumatore a parlare di un prodotto in un certo modo ma anche di comprendere quali saranno i suoi comportamenti d'acquisto futuri. Tutto ciò è reso possibile dall'integrazione tra una nuova teoria filosofica dell'affetto e le più avanzate tecniche di intelligenza artificiale. Grazie. 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 Grazie.